Arte collegato, io credo sia già pronto, adesso verifico con la regia. Di a Biden di mettere giù e di lasciare spazio. Allora c'è, grazie. Allora è collegato con noi, con il videocitofono, il principe dei critici d'arte. Eccolo qua in collegamento. Costantino Dorazio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Come siete spizzanti a questa mattina? Siamo svegli da ore e quindi ormai per noi è mezzogiorno. Comunque, cosa significa per la storia, per gli storici, per tutti noi, questo ritrovamento delle 24 statue a San Casciano? Prima di tutto significa che ancora ci sono dei grandi momenti di fortuna nella storia dell'archeologia, perché effettivamente ritrovare dei bronzi è rarissimo. Cioè la vera grande novità e importanza di questo ritrovamento, tra tutto quello che tu hai detto benissimo prima, è che si tratta di statue non in marmo, non in terracotta, ma in bronzo. È stato fuso in tutte, diciamo, dovunque, dall'epoca già romana, ma soprattutto medievale in poi. Quindi riavere delle statue in bronzo è già di per sé un fatto clamoroso, come avete appena scritto. Ma dall'altra parte la cosa molto interessante è capire che in realtà gli etruschi sono stati duri a morire. Io immagino che in quell'epoca, stiamo parlando quindi tra il secondo, primo secolo avanti Cristo, quando quel santuario che appunto è stato scavato a San Casciano dei Bagni, che poi praticamente era un santuario mescolato alle terme, cioè, no, era comunque legato alle acque calde, queste acque calde erano lì, quindi gli dèi erano lì che curavano le malattie. Insomma, in quel periodo lì, l'etrusco era un po', come dire, parlato come fosse un dialetto, no? Un dialetto locale. Quindi si andava lì magari con tutta la propria cultura, la propria grande capacità di parlare latino e lì si ritrovavano invece persone che ancora affermavano la loro lingua d'origine ed è per questo che la scrivevano poi sulle statue e speravano che gli dèi la capissero, ma tanto gli dèi erano poliblotti per cui non c'era problema. Certo. Ma è stupendo, ma Dorazio, ma quindi possiamo immaginare anche che questo ritrovamento porti a nuovi musei, a un nuovo turismo culturale in quella zona? Insomma, ci prepariamo, iniziamo io e De Lillo a comprare dei poderi per convertirli in agriturismo, in hotel? Credo che qualcun altro ci abbia già pensato in quella zona lì. Massimo Zanna, che è l'attuale direttore generale dei musei, ha già detto che il Ministero ha acquistato un edificio nel cuore, nel centro storico di San Casciano, perché diciamo anche la verità, questo ritrovamento non è di adesso, non so se avete visto i video, gli archeologi avevano tutti la maledetta a maniche corte, facevano un caldo boia, perché in realtà... Non era la novembra. Se lo sono tenuto acquattato... Esatto. Se lo sono tenuto acquattato per un po' di mesi e l'hanno detto ieri. Quindi cosa è successo? Che si sono anche preparati per annunciare, e siamo molto felici, che nel cuore di San Casciano dei Banni nascerà un museo, che custodirà queste sculture e quindi diventerà un'attrazione ancora maggiore per quella zona che già di per sé, dal punto di vista paesaggistico, è straordinaria ed effettivamente è piena già di luoghi. Stupendo! Stupendo! Che bella notizia! Finalmente! Cosa sta facendo il professore? Cosa ha lì dietro? Cosa ha appeso dietro? Allora... Ma che cos'è? Allora, questa... Scusi, Dorazio! Ma cosa sta facendo? No, allora, anche io... Voglio dire... Allora, anche io ho una... La mia istanza contro il cambiamento climatico. Allora, io sono contrario alla devastazione dei quadri che sta avvenendo in questi giorni, un po' in tutta Europa, un po' in tutta Europa. Ma quello l'ha fatto il cugino, c'è scritto, l'ha fatto il suo cugino. Però ci sono dei quadri che invece... Ecco, esatto, l'ha fatto il mio cugino. Ci sono dei quadri che invece godono, migliorano dopo un intervento così, diciamo, di devastazione. Ma io lo so. E con una zuppa... Ma cos'è quella roba? Con una zuppa alla senape e allo zafferano ho imbrattato il quadro di mio cugino. Ma si vergogni, professore! Ma scusa! Il segno di solidarietà. Intanto, in questo schermo si vedono, per esempio, la primavera di Botticelli è uno dei molti, purtroppo, quadri che sono stati imbrattati insieme alla Gioconda quest'estate, insieme a Monet, insieme alla ragazza con l'orecchino di perle. Insieme al quadro di mio cugino. Insieme al quadro del cugino del professore. Dorazio, lei da critico d'arte, come vede questi attacchi? Allora, diciamo che la mia prima reazione negli ultimi giorni è stata, ovviamente, non solo di indignazione, ma proprio una seccatura bella e buona, nel senso che la prima cosa che mi è venuta a pensare mi capitassero esattamente nel momento in cui sono in quel museo davanti, insomma, in qualche modo, una bella tirata d'orecchie, se la è libero. Adesso, però, dobbiamo, dopo l'indignazione, che ovviamente è il risultato principale che loro hanno ottenuto, non so se avete visto, ma gli ultimi video, quelli dell'imbrattamento del Van Gogh a Roma, a Palazzo Bonaparte, in quei video si sentiva il pubblico che sbraitava contro questi ragazzini, che non li lasciava parlare, dicevamo, ma c'è che la meraviglia di combinarlo, ma Van Gogh amava la natura, ma come li permetteranno? Esatto. Allora, dopo questa, però, reazione che ovviamente tutti noi condividiamo, a questo punto, secondo me, però, bisogna cambiare strategia e bisogna, prima di tutto, sperare che Greta Thunberg si dica qualcosa, perché forse solo se dice lei qualcosa questi ascoltano, e probabilmente sottrirgli altre strade. Non dico il vecchio incatenamento davanti al Ministero, che forse ormai non fa più notizia, non dico nemmeno il digiuno, perché ormai siamo tutti a dieta, tranne voi, che state in perfetta forma, ma forse allora prendiamo come buon esempio l'idea di Ardemagni, forse è l'unica cosa. Ma certo, dotare ogni museo di un quadro di mio cugino e permettere dell'agosto. Per essere in un quadro, a questo punto non sia l'unica soluzione. Allora, accettiamo l'istanza del professor Dorazio che si ricollega all'agenda Ardemagni, quella che si propone, insomma, di far ripartire il paese in maniera un po' bizzarra. Ringraziamo il professor Dorazio per essere stato con noi questa mattina. È davvero un piacere, la lasciamo nella sua cucina. Immaginiamo un caffè, a un cappuccino, a un tè caldo, una bella colazione. Eccolo qua. Eccolo lì. Dietro ci sono zucchero, spezie, si vedono... Adoro... curiosare delle cugine. Va bene, va bene. Grazie davvero per essere stato con noi. Ritrovamento straordinario, critico straordinario. Era Costantino... Dorazio!